Conviene fare tanto in azienda, impegnarsi al 100% oppure è meglio un attimino fare un po' meno e riposarsi? Nel video di oggi cercheremo di approfondire questo argomento. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video podcast. Mi chiamo Placiduccio, ho iniziato la serie di video vita da ingegnere dove vi racconto la mia esperienza da ingegnere e che cosa accade dopo aver preso una laurea in ingegneria. Se dopo aver usufruito di questo video podcast ti è piaciuto, ti ho minimamente motivato, ti ho lasciato qualcosa di nuovo ti chiedo di valutare, di iscriverti gratuitamente al mio canale YouTube, basta andare su YouTube, cercare Placiduccio e iscriverti al canale. Se ti va lasciami un commento, rispondo a tutti i commenti e se sei nel mondo professionale e hai LinkedIn trovi il link del mio LinkedIn in descrizione. Conviene fare tanto in azienda, conviene andare in azienda, mettere il 100% in ogni task, essere sempre puntuali, essere sempre il primo ad arrivare in ufficio e l'ultimo ad andarsi, essere proprio quella persona, essere proprio quella persona su cui il capo può contare al 100%, che è super professionale, che si impegna al mille per mille, che ogni task la porta a termine nel migliore dei modi, nella maniera più veloce possibile. Conviene avere questo approccio? Oppure è meglio essere un attimino più rilassati, prendere la pausa caffè, a volte qualche task vai in ritardo, a volte qualche richiamo perché qualche cosa non è stata fatta molto bene. Diciamo avere un approccio un attimino più rilassato quando c'è l'ora di mobilità a prenderla, quindi uscire un attimo prima dall'ufficio quando vi tocca, prendere le ferie nel periodo giusto e diciamo ad esempio nel periodo estivo andare in ferie, piuttosto di far vedere che siete in ufficio anche in estate. Nel senso, quale dei due approcci è migliore e quale dei due approcci è più sostenibile nel lungo termine? Allora, io ho iniziato a lavorare sempre facendo il cane, penso che sono sempre stato il primo ad arrivare in ufficio, l'ultimo ad andarsene, qualsiasi task portata a termine. Poi nel corso del tempo ho un pochettino modificato questo approccio qui e è proprio diciamo il senso del video di oggi di cui io vi voglio parlare perché ciò che mi ha aperto gli occhi è stato quando nella mia scorsa azienda ci hanno fatto un piccolo corso di management e c'era un coach insomma che ci ha raccontato le cose che io adesso vi sto per dire e effettivamente aveva ragione e sta cosa mi ha un pochettino scioccato perché in parole povere, quello che adesso andremo a vedere, diciamo non ha senso essere sempre al 100% quindi mettere sempre il 100% della propria persona, del proprio tempo, della propria esperienza, della propria forza perché questa cosa non è sostenibile. Voi dovete capire che bisogna essere al 100% quando è necessario, non sempre nel senso che quando a volte ci sono delle task che possono essere fatte settimana prossima, fatele settimana prossima perché se le fate oggi, diciamo potete farlo, però non sempre mostrarvi perfettamente al 100% vi può aiutare e andrò a dividere il video oggi in vari capitoli rispettivamente a quali sono gli argomenti che secondo me dovremmo discutere però questa cosa vi deve fare riflettere. Ovviamente non voglio dire che una persona deve essere scansa fatiche, fa nullona o diciamo farsi i propri fatti suoi in ufficio, però dobbiamo cercare di trovare un equilibrio perché ricordatevi che diciamo la vita in ufficio non è una corsa, è una maratona quindi è qualcosa che va fatta, va portata avanti ma con costanza perché non è che voi lavorate per un anno o per due anni come quando si andava all'università, nel senso voi studiate tanto poi vi date la materia e vi rilassate, no nel senso il mondo del lavoro è molto più costante nel tempo quindi voi dovete mantenere i ritmi per 5, 10 anni, 15 anni comunque vi servirà sempre uno stipendio e quindi vi servirà sempre lavorare allora il primo argomento di cui voglio parlare è la regola 100-110% questa storia qui l'ho sentita più volte da anche vari professionisti che mi hanno detto questa cosa qua anche ai vari amici è una cosa ricorrente che poi ho sentito dire anche io da questo coach qua molti diciamo corsi di management ti insegnano a fare management quindi a gestire il personale adesso puoi avere anche un solo sottoposto, puoi avere 10 sottoposti, puoi avere 100 persone sotto di te però nei corsi di management molto spesso si parla di questa cosa qua di 100% e 110% che è una cosa che viene dal mondo dello sport perché i manager si dice che se i tuoi dipendenti stanno facendo il 100% è sicuro che loro possono arrivare al 110% quindi questo cosa vi fa capire? che diciamo i corsi per i manager vengono diciamo dottrinati col fatto che i dipendenti possono fare sempre di più quindi se voi già state spendendo il 100% diciamo del vostro tempo, delle vostre risorse per lavorare in ufficio se il vostro manager si farà mai un corso di management qualcuno chiederà i tuoi dipendenti possono fare il 110% quindi diciamo l'approccio è che ogni anno il vostro manager vi spingerà sempre a fare di più dal 100% al 110% quindi voi immaginate se ogni anno c'è sempre una persona che vi darà un carico di lavoro superiore delle responsabilità in più se voi già il primo anno di lavoro uscite dall'ufficio alle 9 di sera come arriverete al decimo anno di lavoro per la stessa azienda? questa regola vi fa capire che dovete accettare le task, dovete accettare le nuove responsabilità però con calma, nel senso che ogni richiesta che vi arriva in ufficio voi dovete chiedere entro quando ti serve questo file, entro quando devo fare questo lavoro qua, entro prossimo mercoledì allora voi lo farete, vi organizzerete per arrivare in tempo per prossimo mercoledì il fatto che vi mandano una richiesta per prossima settimana e voi già subito la fate oppure non lo so, vi chiedono qualcosa e voi magari rimanete fino alle 8 o alle 9 di sera in ufficio per farla subitissimo, per mostrarvi che siete bravi, non va bene perché poi il vostro capo si abitua che voi fate quello, che è il vostro 100% quindi qualcuno vi chiederà sempre di fare il 110% quindi mi raccomando cercate di gestire il flusso di lavoro che vi arriva e di non sbattere nel senso che dovete fare il giusto e piano piano quando le vostre competenze aumenteranno quindi possibilmente iniziate a lavorare anche in maniera più veloce piano piano riceverete nuove responsabilità, nuovi incarichi e quindi dal vostro 100% arrivate al 110% però almeno non ci arrivate con l'affanno e arrivate in maniera più sostenibile perché come sapete in ufficio c'è tanto stress tanta gente approccia il mondo del lavoro con super stress beve 5-6 caffè al giorno e ci sta male magari parleremo in un altro podcast dell'argomento stress però proprio attuando questa regola qua secondo me vi stresserete molto meno arriverete con larga tranquillità a rispettare le scadenze e potete crescere piano piano nel tempo in maniera sostenibile punto numero 2 è un altro esempio che è quello di correre prima del gol allora io non so se avete mai visto una partita di calcio sicuramente sì prendiamo ad esempio una classica partita di calcio da 90 minuti adesso se voi guardate i calciatori anche il calciatore principale della squadra proprio la punta della squadra ecco questo calciatore quando inizia la partita non corre per tutta la partita cioè un calciatore inizia la partita c'è il fischio d'inizio e dopodiché si mette diciamo nella parte del campo dove lui deve giocare e corre effettivamente quando c'è da correre cioè per prendere la palla per cacciare la palla nella porta per fare un passaggio cioè non è che i calciatori appena iniziano la partita iniziano a girare il campo a correre a correre a correre a correre stessa cosa è quello che accade in ufficio non è che voi siete in ufficio al mattino vi bevete 4 caffè una monster, una redbull e siete sempre lì pronti ogni task che vi arriva subito scrivete la mail subito rispondete subito create il file no cioè un attimino voi dovete capire che si corre prima del goal quindi se ad esempio dovete completare una task entro venerdì voi vi organizzate e la fate entro venerdì cioè non dovete rimanere in questo stato di agitazione che molto spesso vedo in ufficio che tutti sono presi ah io non ho nemmeno il tempo di andare in bagno mi devo impegnare, devo fare, devo dire cioè con calma c'è una scadenza dovete fare una cosa ecco vi impegnate, vi organizzate e la fate questo fatto di rimanere sempre in ufficio farvi vedere che siete impegnati che vi sovraccaricate che siete lì a correre è proprio come un calciatore che c'è il fisco d'inizio della partita e inizia a correre cioè bisogna correre quando è necessario quando il vostro capo vi richiede uno sforzo ad esempio bisogna completare questo progetto qua in tempo ci si impegna si sta in ufficio anche fino a tardi si fa lo sforzo ma per arrivare a qualcosa non è che noi andiamo in ufficio e iniziamo proprio dalla mattina alla sera a bombardarci di caffè e a cercare di portare ogni tasca a termine in tempo subitissimo a essere sempre sopra le aspettative perché questa cosa qua si può fare sì per un mese per due mesi per tre mesi per sei mesi ma poi si va in burnout si va in uno stato di stress in cui la vostra produttività poi cala picco non so se avete mai visto quelle slide che circolano per gli uffici tipo di gente che spacca la stampante a terra gente che esplode gente che va proprio che si mette a gridare e dice mi licenzio cioè queste cose qua effettivamente possono anche accadere e voi dovete stare nella larga voi mettetevi diciamo sempre a dare il massimo sempre a impegnarvi però con calma nel senso che voi sapete che avete quelle scadenze rispettatele quindi nessuno vi potrà dire che non avete fatto il vostro lavoro ma fatelo con calma fatelo con organizzazione e quando vedete che c'è un periodo diciamo dove bisogna mettere più effort mettetelo ma solo in quel caso lì non fatevi diciamo mettere sotto pressione anzi non auto mettetevi sempre sotto pressione punto numero 3 gli altri si approfitteranno di voi allora gli uffici sono fatti di persone adesso come ogni persona c'è magari chi è più onesto c'è chi è meno onesto c'è chi è più approfittatore c'è chi è meno approfittatore però molto spesso specialmente per le figure junior o chi magari è entrato da poco in azienda se vi mettete a dire sì a tutto quindi se diventate yes man o yes woman della situazione questo può essere un grosso problema perché possibilmente potete anche trovare colleghi che sono onesti quindi che vi fanno le loro richieste in maniera diciamo giusta nel momento in cui è necessario farle però potete anche trovare gente che è frustrata che è già in azienda tipo da 15 anni che non ha mai fatto salti di carriera che possibilmente non ha più niente non ha più ambizione all'interno della propria mente quindi vede un giovane neolaureato pieno di grinta pieno di voglia e gli comincia a smazzare il proprio lavoro proprio perché voi siete sempre degli yes man quindi innanzitutto voi dovete capire che in ufficio voi avete un capo e avete diciamo delle responsabilità da portare avanti per cui vi hanno assunto io ad esempio sono un planning engineer ho il mio capo e la mia responsabilità da planning engineer è quella di fare la schedula di fare il diagramma di gant quella è la mia responsabilità per cui io vengo pagato poi se qualche collega mi chiede mi dai una mano con questo foglio excel mi dai una mano a fare questa mail mi dai una mano con la presentazione quello è un lavoro che io posso fare che molto spesso faccio ma è un lavoro che non è il mio principale lavoro quindi ogni richiesta che vi arriva voi dovete capire chi mi sta facendo questa richiesta è il mio capo diretto si no ovviamente se la richiesta ve la fa il vostro capo voi dovete farlo se non è il vostro capo diretto voi dovete capire questa persona qua chi è in azienda cioè è una persona che effettivamente mi sta chiedendo questa cosa perché gli serve ad esempio io sono un planner e qualcuno mi chiede la schedula dall'ingegneria di design effettivamente gli serve la schedula io la mando ovviamente no se mi fate le richieste effettivamente ha ragione perché nella schedula io mostro anche ciò che fa il designer ecco in questo caso qui vado a svolgere la task però se voi capite che qualcuno vi sta chiedendo delle task solo perché voi siete bravi con excel solo perché voi siete veloci con excel solo perché voi diciamo vi volete impegnare al 100% e nel frattempo quella persona lì sta ozziando in questo caso lì andate dal vostro capo io andate a dire mi dite caro capo ricevo in continuazione mail da questa persona che mi sta chiedendo di fare questo di pulire i fogli excel di rifare i colori della presentazione cioè delle cose che effettivamente mi tolgono tempo al mio lavoro principale diciamo penso cioè cosa ne pensi di questa cosa qui è effettivamente in quel caso il vostro capo vi può aiutare praticamente tranquillamente e seconda cosa quando vi arrivano delle richieste in generale che possono essere dal vostro capo o che possono essere da qualsiasi altra persona in azienda dovete sempre chiedere qual è la priorità di questa task qua nel senso che entro quando vuoi questa cosa fatta perché io sto già facendo delle altre cose e così loro vi dicono no guarda non è prioritario mi serviva solo una mano e loro gli dice no guarda sono impegnato oppure vi dicono è molto importante perché non lo so abbiamo la visita del cliente settimana prossima e quindi dobbiamo farlo in quel caso lì magari fate un pochettino di mente locale con il vostro capo e dopodiché vi impegnate nella task quindi cercate di stare alla larga da chi si approfitta e vi assicuro che questa cosa io l'ho vista negli anni non è una cosa diciamo così rara anzi è abbastanza frequente specialmente quando c'è qualcuno con contratto di stage quindi non ha ancora l'opportunità di dire sono effettivamente in azienda non ha certezze o qualcuno con contratto di tirocinio ecco vedo che ci sono elementi specialmente quelli più frustrati che hanno tipo 15-20 anni di esperienza in azienda che cercano di approfittarsi di queste persone cioè a volte ho visto gente anche che si fa fare le fotocopie gente che si fa comprare la bottietta d'acqua gente che si fa portare il caffè e per me è una cosa disgustosa e da quando diciamo sono una figura più senior ho sempre diciamo sono sempre andato dal project manager dal capo a Dilo quando vedo scene del genere di sfruttamento perché per me non ho pietà per chi ha 20-30 anni di azienda e va a sfruttare la persona neolaureata quindi non vi fate sfruttare ultimo punto il miglior scenario quale sarebbe quindi diciamo quello che secondo me dovete cercare di avere quando lavorate in azienda come task da fare come tempo impiegato in azienda è quello che voi dovete fare le vostre ore giornaliere in ufficio quindi 8 ore al giorno poi quando capita quando c'è da fare straordinari li fate ma lo straordinario di una o due ore in più al giorno non va fatto ogni giorno va fatto solo quando è necessario la cosa migliore sarebbe che voi avete le vostre task diciamo avete le vostre scadenze raggiungete le vostre diciamo task in tempo nel 99% dei casi 95% dei casi ogni tanto il vostro capo vi dà degli spunti per migliorare avete una vita abbastanza normale avete il tempo per andare in palestra avete il tempo per rilassarvi avete il tempo per prendervi un caffè anche in ufficio perché a volte un quarto d'ora in ufficio potete stare col telefono col caffè questo è il miglior scenario poi se effettivamente c'è la visita del cliente c'è l'audit c'è un problema e vi dovete impegnare in quel caso lì vi mettete per un mese una settimana quello che è fate più straordinario vi impegnate di più però diciamo che quando voi andate in ufficio al mattino col buon umore sapete che le task che vi sono state assegnate sapete farle e sapete completarle nel tempo diciamo richiesto quindi per esempio entro venerdì riuscirete a fare quella cosa si avete tutti gli strumenti per farlo avete diciamo un buon rapporto con i vostri colleghi quello è lo scenario migliore andare in ufficio al mattino e essere sempre lì stressati con il fatto che non avete nemmeno il tempo di andare in bagno questa è una cosa che a Milano veniva ripetuta spesso la sentivo dire spesso non è una cosa salutare nel lungo andare spero che con questo video vi ho raccontato e vi sono riuscito a spiegare il fatto che si dovete impegnarvi ma non dovete affannarvi vi chiedo di iscrivervi al canale mettere like e ci vediamo al prossimo video grazie ciao a tutti ciao a tutti